Sono ormai arrivate da qualche mese anche in Italia le giornate del Friday for Future, così come lo stesso nome fa intendere i venerdì a tutela del futuro, un vero e proprio fenomeno globale con decine di migliaia di studenti radunati in tutta Europa per chiedere un'azione concreta dei governi sui cambiamenti climatici. Da Londra a Parigi, poi anche Germania, Belgio, Svizzera e anche in Italia, dove già da diversi venerdì sono in atto le proteste dei cittadini Anche Ragusa fa la sua parte, lo ha fatto lo scorso 24 maggio e lo rifarà domani, quando l'intero continente si mobiliterà per lo sciopero globale. Alle 9.30 di domani, concentramento davanti al Palazzama. Alla manifestazione saranno presenti gli studenti delle scuole medie, primarie e secondarie che sfileranno da Via Zama sino a Piazza Matteotti davanti al municipio, dove una delegazione incontrerà il sindaco Peppe Cassie e l'assessore Giovanni Iacono, ai quali sarà consegnato un documento sull'interpretazione della crisi mondiale dell'ambiente e sulle cose da fare per evitare disastri del dissesto idrogeologico. Promotori dell'iniziativa a livello locale, gli ambientalisti di Rinascita Verde e Lega Ambiente, protagonisti i giovani diretti interessati e già proiettati verso il futuro con loro lo slogan, se non lo facciamo noi chi lo farà? Tra gli obiettivi la realizzazione di un parco in un'area che in questi mesi è stata depurata dall'immondizia come è stato raccontato dagli stessi protagonisti. Abbiamo iniziato la pulizia della zona dietro le dune, il parco urbano che dovrebbe essere designato come bosco verde. Questo è quello che finora abbiamo raccolto, sacchi di differenziate plastica, dei pezzi di macchina, batterie, materiali speciali. Altro intento è la riduzione della plastica. Nonostante da giugno Ragusa sia plastic free, il suo utilizzo fatica a sparire. La proposta da parte dei giovani attivisti è quella di sostituire le bottiglie in plastica con le borracce in metallo. Iniziative anche a Scicli dove gli studenti di alcune scuole medie, coordinati dai volontari del Circolo Legambiente e dai docenti, stanno realizzando un'installazione che rappresenta due percorsi divergenti, uno verso un mondo pulito e uno invece che conduce a una realtà anerita dal petrolio. L'installazione realizzata questo pomeriggio resterà visibile fino a sabato mattina in via Mormino Penna.